Il panno, Burlanetto, chiama in avanti anche Rinaldini, parte il cross di Rinaldini, palla al centro, tira e gol! Gol di Agazzone, Agazzone porta il campiaggio di Milan. Ottima quest'azione sul cross di Rinaldini, c'è stato il colpo di testa a fare da torre di Gasparetto. È arrivato Agazzone e da due passi ha messo dentro, Milan in vantaggio sul Vartex. Ecco che ne vediamo, il cross di Rinaldini, osservate, bravissimo Gasparetto di testa al centro, si coordina e batte di volo. Gasparetto con il destro e il Milan è in vantaggio. Milan, 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 Milan. Funzione immediatamente, il tecnico Ivankovic chiama accanto a sé due giocatori. Obadi.